molto bene oggi è il mercoledì 27 marzo 2024 insieme a Pio Baisero incominciamo un dialogo un dialogo dedicato all'Europa Pio perché io voglio sempre evidenziare un aspetto che magari di questi tempi risulta un qualche cosa che sono in molti a vedere come un elemento di negatività ma sia tu che Dio siamo degli europeisti convinti degli europeisti fin dal primo momento ma che in questo invece momento viviamo la situazione con grande delusione insomma questa Europa ci amareggia al punto tale che forse quell'europeismo che avevamo all'inizio se ne sta andando non so come la vedi tu. Intanto buongiorno Viaggio e grazie per l'invito che gradisco molto e apprezzo molto. Sì la nostra comune diciamo delusione chiamiamola così nei confronti dell'Europa ci ha portato a molte considerazioni oltre che amarezze ma anche qualche speranza tutto sommato e quello che dici tu io l'ho definito da tempo e l'ho anche scritto qualche rivista una metamorfosi kafkiana del nostro continente o in più in particolare più che del nostro continente dell'Unione Europea che è l'organizzazione ai cui abbiamo sempre fatto riferimento ecco la mia militanza nell'europeismo nel federalismo europeo è ormai quarantennale e in questi ultimi tempi ho fatto delle considerazioni e delle riflessioni molto profonde giusto o sbagliate che siano ma mi sento anche di esprimerle a terzi. Certo anche perché io voglio sottolineare che tu sei stato addirittura uno dei fondatori dell'Accademia Europeista di Gorizia per tanti tanti anni il direttore della stessa Accademia Europeista e anche il direttore di Rassegna Europea che è una rivista che gira nel mondo universitario proprio per portare il messaggio europeo ma ci troviamo oggi in una situazione in cui l'Europa ci sta mostrando qualche cosa di paradossale. Pio la settimana scorsa come detto all'inizio del nostro incontro oggi è il 27 marzo ma la settimana scorsa c'è stato l'ultimo consiglio ordinario, l'ultimo consiglio europeo e mai toni come quelli ci saremmo potuti aspettare da quell'Europa che 11 anni fa vinceva il premio Nobel per la pace, un'Europa che vuole armarsi e un'Europa che parla che non esiste la pace se non si fa la guerra. Insomma dei toni che ci hanno mostrato una situazione preoccupante. Allora di fronte a questo che cosa possiamo pensare perché è stata proprio l'Europa ad andare a rimediare al disastro di quel attentato di Sarajevo del 1914. Ricordiamolo proprio l'Unione Europea ha permesso di rimediare a un disastro che ci ha portato delle conseguenze per più di un secolo. Eh sì, hai parlato della settimana scorsa, siamo a pochi giorni di distanza dal 25 marzo che è la data in cui fu fondata nel 57 la Comunità Europea. Ma quando andiamo a leggere il trattato istitutivo e le dichiarazioni fatte il 25 marzo del 57 leggiamo una cosa che oggi sembra proprio sparita del tutto, ovvero sia unire tutti i popoli europei nel nome della pace. Questo a distanza di tanti anni è stato completamente rovesciato questa metamorfosi dovuta anche al personale politico perché non dimentichiamo che la generazione che ha fatto la Comunità Europea usciva da una guerra mondiale ed era formata da persone molto competenti ed equilibrate. Oggi purtroppo viviamo una situazione opposta, non abbiamo più l'esperienza della guerra ma la vogliamo riproporre in termini del tutto pericolosi. Perché se tu vai a leggere il comunicato dell'ultimo Consiglio europeo, leggi che l'imperativo categorico che ci sta davanti è quello della preparazione, e lo riporto, non me lo invento io, lo leggo dalla comunicazione, la preparazione militare civile rafforzata nonché coordinata, oltre che una gestione strategica della crisi, dice il Consiglio europeo, nel contesto dell'evoluzione del panorama delle minacce. Ecco, il panorama delle minacce significa che entriamo in una fase di emergenza, c'è poco cosa fare. E questo mi preoccupa moltissimo, anche perché come tu sai, come l'hai detto, in alcuni paesi dell'Unione europea queste parole vengono, diciamo, concretizzate. Sì, già è vero, vengono già concretizzate. La Svezia, ad esempio, sta già portando una sorta di preparazione, addirittura ci sono delle dimostrazioni di segnali d'allarme, cose che per noi è qualche cosa di inconcepibile, segnali d'allarme per eventuali bombardamenti, per poter andare a rifugiarsi negli appositi appunto rifugi. Insomma, si sta venendo a creare un clima, come dici tu, di preparazione, di preparazione a un qualche cosa che però io sono ormai tre anni da quel 2021, quando iniziava il momento così della tensione del contesto europeo, sono ormai tre anni che segnalo che tutto poteva essere evitato, perché non si è fatto assolutamente... Noi abbiamo sentito solo parlare di armi, armamenti, contrapposizioni, ma non si è mai sentito invece di un inizio, di un dialogo, di un'apertura, di un confronto per cercare di risolvere pacificamente le cose. Ma, insomma, possiamo dire che qualcuno vuole la guerra? In qualche modo sì, tanto più che in questo momento, se osservi i fenomeni gravissimi che sono successi i giorni scorsi a Mosca, c'è una recrudescenza, un salire degli scalini. E dirò una cosa ancora, qualcosa di più, soprattutto a Trieste, andando a fare una passeggiata sul Molo Udace, si vede sempre quella nave dell'oligarca russo ferma. E quello è il risultato di un'azione sconsiderata del governo Draghi, che ha deciso di fermare quella nave e di porla sotto sequestro, mentre poteva benissimo, diciamo così, farla espellere. Invece così, comunque vadano le cose, sarà un peso economico e finanziario non indifferente per il governo italiano, che dovrà restituire il maltolto pagando non pochi interessi e spese per la gestione di questa enorme imbarcazione. Per dire, le sanzioni non hanno funzionato, le sanzioni hanno danneggiato l'Europa e non ce ne siamo ancora resi pienamente d'accordo, ma c'è ancora una cosa da dire. E questo, devo dire, il veleno mediatico in cui siamo immersi non ci fanno dare dei segnali su alcune informazioni che sono in mani dei giornalisti e molti giornalisti non fanno bene il loro mestiere. Quale, ad esempio? Quando è successo il fatto di Mosca? Gli Stati Uniti e in particolare il Blinken, segretario di Stato, ha affermato testualmente che loro avevano informato la Russia della possibilità di attacchi, non solo, ma ha detto due parole molto importanti che secondo me sono state un po' passate in secondo piano, taciute, ovvero sia è interesse degli Stati Uniti e della Russia avere una qualche forma di collaborazione per il comune nemico. Cosa vuol dire questa cosa, il comune nemico che sarebbe l'Islam, il terrorismo islamico? Vorrebbe dire che gli Stati Uniti si sono resi conto che la situazione in Ucraina non è più così facilmente gestibile, che i russi stanno vincendo, che le sanzioni non hanno funzionato, che le elezioni americane pongono il presidente Biden in una situazione molto difficile e quindi l'unica forse via per in qualche modo evitare il peggio sarebbe quella di una sorta di accordo con la Russia che per ora non è possibile. Ma è un segnale importantissimo, vuol dire che la situazione per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America non è più controllabile e questo naturalmente ha delle ripercussioni in Europa. In particolare, e concludo, in particolare potrebbe essere ipotesi, pure ipotesi, ma non forse tanto lontana dalla realtà, che ad un certo momento gli Stati Uniti si disimpegnino. Allora tutto il peso militare nei confronti del sostegno dell'Ucraina potrebbe cadere, ricadere sulle spalle dell'Unione Europea, cosa che l'Unione Europea sta cercando di affrontare come? Attraverso un utilizzo dei profitti, degli asset russi che sono congelati, che è una mossa, diciamo, è un'ulteriore sfida alla Russia. Si parla addirittura di bond, euro bond, per sostenere la spesa militare che sarà crescente. Mi viene da pensare che mia nonna aveva nella casa panca, in soffitta, non so quanti titoli dello Stato dell'impero austro-ungarico, titoli di obbligazioni che poi sono finite nel nulla, ma che sostenevano la guerra. Se questa è la via, siamo proprio male. Eh sì, se questa è la via, siamo proprio malmessi anche perché dobbiamo partire da un principio, c'è un mondo che esce fortemente impoverito dall'esperienza pandemica. Il passo che doveva essere fatto era quello di andare a rimediare alla situazione delle conseguenze portate anche lì da scelte mai sentite nella storia dell'umanità, perché le pandemie sono sempre state presenti nella vita dell'umanità e arrivare al blocco del mondo è stato qualche cosa sostanzialmente di inconcepibile. Anziché dedicare le risorse, dedicare gli impegni, dedicare gli sforzi nell'andare a rimediare a quella situazione, si è entrati in una fase successiva ancora più grave, rappresentata non solo dalla guerra in Ucraina, con tutte le ripercussioni legate soprattutto nel contesto europeo, perché noi possiamo sentire tutti i discorsi che vogliamo portati da Ursula von der Leyen a Bucharest, anche lì pochi giorni fa, dove esalta grandi risultati che non ci sono assolutamente stati. Ma l'Europa si è fortemente impoverita, basta vedere la qualità della vita della gente per poi arrivare all'altra drammatica situazione rappresentata dalla striscia di Gaza che infiamma ancora di più. Secondo te, siccome c'è stato l'attentato a Mosca pochi giorni fa, il rischio che ci possa essere una nuova vicenda, una nuova Sarajevo, un nuovo arciduca Francesco Ferdinando che poi faccia scatenare l'imprevedibile? Perché io ho l'impressione che tutti quanti giochino nella speranza però che non succeda niente, però l'imprevedibile può esserci. Ah, hai perfettamente ragione, l'imprevedibile è sempre nella storia umana. In effetti viviamo un'epoca di grande caos, di anarchia e anche nel mondo islamico ci sono queste organizzazioni diciamo terroristiche, ma anche ci sono delle formazioni militari sia nell'esercito ucraino che in quello russo. C'è la vicenda di Pregosin, della tensione che c'è nell'ambito della dirigenza russa per la gestione del tutto. Quindi lì è veramente un punto interrogativo inquietante. Quando la Ursula von der Leyen dice che, afferma al Parlamento europeo che la guerra non è impossibile e che l'Europa si armi, perché lo ha detto chiaramente, e addirittura dobbiamo produrre, dice lei, di più armi come abbiamo fatto con i vaccini e siamo in un vicolo cieco ormai e soltanto forse un segnale che potrebbe venire dalle elezioni europee potrebbe forse cambiare il corso che è stato intrapreso da questa dirigenza europea. Dico una cosa, anche un'altra cosa che sfugge un po' all'osservatore, ovvero sia le elezioni in Portogallo che si sono svolte poco tempo fa. Cos'è successo in Portogallo? In Portogallo c'era un grande astensionismo che però è stato recuperato nelle ultime elezioni con la vittoria di un partito antisistema, cioè i portoghesi hanno votato contro tutti in qualche modo. Quindi c'è anche un segnale nel corpo elettorale europeo di un grande cambiamento e un atteggiamento che potrà sfociare o in un grande astensionismo oppure in un ribaltamento delle forze politiche presenti nel Parlamento europeo e questo potrà essere anche veramente una svolta nella gestione di questi signori a cominciare, anzi, signore purtroppo. Mi dispiace per l'elemento femminile che è sempre bello, però in questo caso... In questo caso non ha portato la speranza opportuna. Pio, il discorso si lega a quanto tu dici anche a a quanto Ursula von der Leyen ha detto a Bucarest, perché subito, dato che noi viviamo nel clima della paura per definizione, anche in questa occasione rappresentata dalle elezioni europee, Ursula von der Leyen ha portato la paura nei confronti delle forze sovraniste. Come dire, non si può fare nient'altro che seguire la linea di Ursula von der Leyen o delle forze che la appoggiano. Non esistono le alternative, non esiste neanche la cosiddetta alternativa democratica se effettivamente le forze sovraniste dovessero prevalere, perché rappresentano la fine, il male assoluto, insomma. Allora, non si può ovviamente guardare in modo favorevole, penso, a un'Europa, e lo ripeto, da europeista convinto sull'efficacia che l'Europa abbia avuto e abbia rappresentato, ma che in questo momento non rappresenta più, non si può più guardare a un'Europa che si basa sulla contrapposizione, sul portare la paura e soprattutto nel non vedere le effettive esigenze di un popolo europeo sofferente, perché il popolo europeo è sofferente. Ah sì, certamente, e come più volte tu hai detto nei tuoi interventi molto sempre precisi, c'è questo scollamento totale fra cittadini e potere politico, che è un fenomeno non solo italiano, ma diciamo addirittura a livello planetario, e quindi la povertà crescente, la difficoltà di trovare un lavoro, l'inflazione e soprattutto il debito pubblico, che è un altro argomento sul quale bisognerebbe parlare parecchio, il debito pubblico incontrollato, e tutto questo provoca una situazione di estraneità. E per di più c'è un altro fenomeno preoccupante, ovvero sia che questa terza guerra mondiale, che il Papa, il Pontefice ha definito con una definizione molto efficace, la guerra mondiale a pezzi, qua e là nel mondo, che finora per fortuna ha risparmiato l'Europa, o almeno l'Europa occidentale, questa guerra colpisce soprattutto i civili. Quindi, questo cosa significa? Che la popolazione è vittima, la popolazione soffre e la popolazione dovrebbe rivoltarsi contro questa situazione. E questa rivolta, che potrebbe essere anche violenta, ma che si spera non lo sia, va fatta con un cambiamento totale della classe dirigente nazionale, europea, mondiale. Certamente, è una situazione... Vado un po' avanti con la... Sono quelle situazioni estremamente pericolose che si mostrano nel contesto, perché si segue una linea e però ci si distrae di fronte alle esigenze di un popolo che poi vive sempre peggio. A tal fine voglio ricordare, prima di concludere la nostra chiacchierata, che ieri l'Istituto di sondaggio SVG di Trieste ha portato delle valutazioni estremamente attente sui risultati appunto di un sondaggio. I cittadini italiani hanno come speranza per il 2024 proprio la fine della guerra. E questo è importante perché il 50% appunto che si vede in questa direzione va a mettere da parte altre problematiche che magari possano entrare più sulla vita personale, il lavoro, la salute eccetera. E infatti a questo riferimento anche la valutazione sulla difficile situazione economica passa in secondo piano perché è ritenuta conseguenza proprio della guerra. Come a dire, la speranza che la guerra finisca implica anche un miglioramento della situazione economica delle persone. Inoltre i cittadini italiani da questo sondaggio, ovviamente il campione che è stato preso in esame, si mostrano in un trend crescente contraria alle missioni italiane militari all'estero. Come a dire, basta, non vogliamo più essere coinvolti in queste vicende. Ti ringrazio Pio e ovviamente con te avremo modo di affrontare questi argomenti anche in altre occasioni. Volentieri, senz'altro sono a disposizione, auguro a tutti una buona giornata e a cominciare da te. Grazie.